Domenica 7 aprile a Lorociuffenna, le vie dell'Orto Fiorito. Sonia è pronta per presentarci il programma di questa giornata che si pronuncia intensa e interessante, è così? Sì, con l'arrivo della primavera noi inizieremo a Lorociuffenna con una festa, appunto le vie dell'Orto Fiorito. Naturalmente ci saranno banchi con fiori, piante, tutta oggettissima per il giardinaggio. Per le strade del paese, chi volesse passare una bella giornata può venire qui a Loro, passeggiare per le vie, naturalmente, guardare i negozi, che naturalmente siamo tutti aperti. Nel frattempo, chi volesse abbellire il proprio giardino, il proprio orto, può trovare fra questi banchi tutto ciò che gli serve a prezzi ottimi e passare una giornata serena e tranquilla in un paese che ancora ci dà soddisfazioni. Ricordiamo gli orari? Sì, gli orari sono, inizieremo questa festa la mattina alle 10 fino alla sera alle 8. C'è anche una manifestazione molto importante di solidarietà, di utilità del cittadino, ma questo ci viene presentato dall'assessore Lionello Becadino. Sì, nell'occasione, la domenica mattina alle 12, ci sarà la consegna del defibrillatore posizionato all'esterno del comune in via Prato Magno. È offerto dagli commercianti dell'associazione del centro commerciale naturale, che noi ringraziamo, l'amministrazione ringrazia privamente anche per quello che è stato fatto nell'anno precedente, prevedendo anche un comitato che ha provveduto a riaprire Gropina con un sostanzioso aiuto. Per cui le ringraziamo doppiamente in considerazione anche del momento difficile che ci stiamo attraversando e che però i commercianti del centro commerciale naturale sono sempre stati al nostro fianco. Ricordiamo dunque il tema di domenica 7 aprile, sogno a cui la roccio fenne? Sì, le vie dell'orto fiorito, con la primavera, con una bellissima giornata di sole che naturalmente ci assisterà e potremo fare questa festa, stare tutti insieme.